Salve amici e amiche, continuiamo a parlare oggi dell'attacco israeliano ai danni dell'Iran che c'è stato sabato, notte. Allora, le cose sono interessanti, sono arrivati anche i report abbastanza dettagliati di quello che è successo. Oddio, ci danno delle indicazioni di massima per poter capire quello che è successo. Intanto, sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'avere intuito quello che poteva essere stato il modus operandi di Israele. Colgo l'occasione anche per rispondere ad alcune critiche oggi o ad osservazioni per parlare un po' delle tecnologie utilizzate in questo attacco. Come sempre, cari amici, prima di iniziare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Qui sotto al video trovate i pulsantini di YouTube per aiutarmi e sostenermi in questo modo. Allora, intanto, chiedo scusa se ho usato lo spunto di Orsini nel video precedente, ma giusto perché mi serviva come gancio la sua dichiarazione per cui Israele non avrebbe mai attaccato l'Iran per poter parlare proprio dell'attacco poi fatto all'Iran. Mi dispiace se qualcuno ha scritto che abbandonerà il mio canale, ma io non parlo di certo di Orsini. Io mi occupo di queste cose, di studiare questi aspetti di analisi militare. Quindi, questo è quello che faccio. È chiaro che poi, se capiterà in futuro, di prendere un po' in giro certe dichiarazioni televisive, non vogliatemene. Allora, parliamo, insomma, di quello che è successo. Ieri mattina, mentre realizzavo il video, avevo osservato una strana attività di aerocisterne come queste. Vedete? Queste aerocisterne che in genere le vediamo spesso, almeno da un bel po' di tempo, da anni in realtà. Però poi con la crisi di Medio Oriente che si è scatenata con l'attacco di Hamas e l'Iran con il suo attacco missilistico, è chiaro che tutte le operazioni di monitoraggio dello spazio aereo verso il Medio Oriente sono aumentate. Quindi, se in questi quasi tre anni, nei cieli dell'Europa, dell'Est, continuano questo tipo di voli, di aerocisterne, EDA e per l'America, che partono dalle basi inglesi, ma anche italiane, per esempio Sigonella, e questi voli sono fondamentali perché permettono ai caccia multiruolo che non hanno una grande autonomia. Cioè, anche i migliori, come per esempio gli F-15 americani, non possono fare tanta strada, hanno bisogno di rifornirsi in volo. E quindi, per poter fare missioni a lungo raggio, che partono per esempio dall'Inghilterra e vanno a operare nel Mediterraneo, questi aerei devono rifornirsi in volo. Per esempio, questo è un aereo cisterna francese, possiamo notare i suoi pattern. Questo è un classico circuito di rifornimento. Cosa significa? Che mentre si trovava a sud, nel mar Ionio, cos'è l'Egeo, questo, a questo punto, in questa zona, ha fatto dei rifornimenti in volo. Questo fanno. Poi, mi collego a quello che è successo ieri, perché ieri avevo visto tantissimi di questi aerei e ho sospettato che fossero collegati all'azione di Israele. E vediamo come, anche perché questa intuizione si è dimostrata ampiamente vera. Infatti, andremo a vedere proprio come è stato portato avanti l'attacco da parte di Israele. Quindi, oggi parleremo dell'attacco di Israele, parleremo delle tecnologie utilizzate, parleremo dei missili, parleremo dei sistemi di scudi missilistici iraniani, dei missili balistici iraniani, cosa comporterà e cosa ha comportato questo attacco da parte di Israele. E per concludere, poi, affronterò marginalmente oggi alcuni aggiornamenti della situazione in Ucraina. Quindi, saranno in coda al video. Bene, iniziamo. Allora, nella notte di ieri, questa è stata, diciamo, la comunicazione più ufficiale è arrivata dal Jerusalem Post che ci ha dato alcuni dettagli su quello che è successo. Si parla di oltre 100 aeroplani che hanno realizzato qualcosa come 2000 chilometri di volo per l'Iran, verso l'Iran. Ora, diciamo, l'articolo è stato scritto per persone che non ne sanno molto di queste... è molto generalista come articolo, però è così. Intanto viene detto che in questi oltre 100 aeroplani sono stati inclusi anche degli F-35, quindi aerei di ultima generazione, oltre ai classici F-15E e F-16 Block 72, tipici dell'aviazione israeliana. Oltre a questo sono stati utilizzati dei droni e quindi tutta la forza di attacco dell'aviazione israeliana ha pianificato questo attacco con largo anticipo, cioè non è stata un'azione improvvisata, è stata pianificata a lungo termine. E si è partiti fondamentalmente dall'attacco iraniano che c'è stato il mese scorso. Questo attacco, come sappiamo, è stato condotto con missili balistici, per cui tutti i dati satellitari che hanno raccolto le informazioni dei siti di lancio di questi missilistici sono stati il centro dell'attenzione di questo attacco. L'obiettivo di questo attacco era neutralizzare due cose dell'Iran, le sue difese aeree e i siti di lancio missilistici. Insomma, hanno colpito letteralmente non chi ha sparato, ma l'oggetto, praticamente. Un po' come il cowboy che spara alla pistola, anziché all'omino. Questo è quello che hanno fatto gli israeliani. È stato geniale come attacco. Adesso vediamo un po' i dettagli per capire appunto il modus operandi e questo attacco di precisione che, questo, lo dico già in anticipo, ovviamente ha dimostrato un'enorme superiorità tecnologica, ma anche di esperienza come operatività, se parliamo di operazioni congiunte, da un punto di vista ecco pratico, Israele ha molto da insegnare anche ad altri stati moderni. Figuriamoci all'Iran che, insomma, lavora ancora con aerei degli anni 60. Quindi, vediamo un attimo nel dettaglio. Sappiamo che ci sono state fondamentalmente tre ondate in questo raid in particolare. La prima ondata si è concentrata sullo sviluppare quella che viene chiamata SIAD, cioè soppressione delle difese aeree. Poi vi ho promesso che in futuro dedicherò un video interamente ai task di missione per entrare un po' nei dettagli, però ecco, immaginiamo che questo modus operandi è tipico delle forze Nato, delle forze americane, e viene effettuato tutte le volte che si attacca in maniera strategica una nazione che ha delle difese aeree. Ok, chiaramente l'attacco in una fase preliminare viene pianificato con cura, c'è tutta una fase di studio, di simulazione anche, in cui si valutano diversi scenari. Poi si mettono in campo gli aeroplani, e gli aeroplani devono poter operare in un'operazione congiunta. Non stiamo parlando di pochi aeroplani, un centinaio di aeroplani sono tantissimi da gestire, e quindi è, da un punto di vista logistico, un'operazione imponente lanciare 100 aeroplani in un assalto in una notte. Ok, non si vedeva un'azione del genere dai tempi della guerra del Golfo, nel 1991, se non sbaglio. Quindi ci dà un'idea della scala con cui ha operato Israele ieri. Quindi, che cosa è successo? Intanto è stata predisposta, ovviamente prendete quello che sto dicendo come delle deduzioni, metto le mani avanti, io sto facendo delle deduzioni sulla base delle dichiarazioni del Jerusalem Post e di altri blogger e testate giornalistiche, in più collego alla mia conoscenza della materia. Quindi, questi pacchetti di voli sono partiti da Israele e dovevano, l'obiettivo era raggiungere l'Iran. Per fare ciò, ovviamente, passiamo dal presupposto che sono partiti con diverse ondate, non tutti contemporaneamente, e quindi hanno dovuto gestire i tempi per potersi coordinare. Ovviamente, sulla strada, hanno fatto affidamento a delle aereocisterne poste, eventualmente, in territorio dell'Arabia Saudita. Perché dico questo? Perché non sulla Siria o sull'Iraq? Perché sappiamo che sono zone pericolose. E un rifornimento in volo, generalmente, non si può fare ad altissima quota. Ci sono dei problemi per questo, nel senso, per poter fare un rifornimento in volo, bisogna fare un volo molto, di formazione stretta, molto di precisione. Quindi, l'area non può essere completamente rarefatta. Di conseguenza, le aereocisterne hanno delle tangenze operative, vediamo se, becco una, ecco questa, è un'aereocisterna, a 28.000 piedi. Questa sta salendo, è salita perché, sta ritornando, vediamo se, becco qualcuna che sta ancora in zona. Però, ecco, stiamo parlando di quote, non altissime, nell'ordine dei 5 km, 6 km di quota, quindi, dove l'area ancora c'è, non siamo completamente in area rarefatta. E quindi, sono, poi sono velivoli estremamente vulnerabili, un grosso aereocisterna, è veramente vulnerabile, non sono aeristelt, insomma, si vedono benissimo sugli schermi radar, e sono aerei molto importanti, di conseguenza, questi aeroplani devono stare in zone ben protette. Quindi, gli israeliani sicuramente hanno i loro aereo rifornitori, in questo rispondo a una domanda, in cui un utente mi ha detto, eh, ma come hanno fatto gli israeliani a fare rifornimento in volo, hanno sfruttato gli aerei NATO per fare questa incursione? Allora, la risposta è nì, nel senso, di sicuro, loro hanno le loro aereo cisterne, ma per rifornire, diciamo, 100 aeroplani, chiaramente, non tutti contemporaneamente, ma per poterli diluire in più ondate, hanno probabilmente, questa è una mia deduzione, probabilmente attinto anche ai servizi della NATO, che stanno già lì. È chiaro, quindi, non lo escludo, non lo escludo. Quindi, partiamo dal presupposto, che probabilmente, per poter avere il cosiddetto playtime più lungo possibile, per poter stare in volo più tempo possibile, queste ondate hanno pianificato con molta cura i tempi di rifornimento in volo, e tutti i pattern di circuiti che potevano fare in queste zone, quindi queste aree che sto evidenziando, potrebbero essere state le zone in cui hanno operato le aereo cisterne, e quindi da qui, da queste aree, poi sono stati portati avanti gli attacchi. Ora, apro una piccola parentesi, e la chiudo anche subito, la difficoltà di fare questo è enorme, cioè, non stiamo parlando di uno scherzo, ripeto, cento aeroplani, ondate su ondate, diversi voli, comunicazioni, il rifornimento in volo notturno, non è uno scherzo, per niente, quindi, tutto questo, già sta evidenziando, un'enorme capacità operativa, da parte di Israele, ma, enorme, all'altezza solo, delle capacità americane, parlando di numeri, quindi, già questo fa impressione. Sono arrivati, fra l'altro, anche video, di questi decolli, in cui si vedono i soldati prepararsi, e sottolineo anche un altro aspetto fondamentale, che hanno partecipato anche delle donne, in questa azione, e che fa impressione, se consideriamo che hanno attaccato una nazione, che le donne le vuole tenere al guinsaglio, letteralmente, quindi, mi fa molto piacere, che queste donne hanno potuto, dire la loro, in questa azione aerea, quindi, in questi video, vediamo F-15E, gli F-15E israeliani, sono tipici, perché, come vedete, hanno questa strana bombatura, questi sono serbatoi esterni, più, questo aereo sta decollando con tre serbatoi, insomma, è un aereo con una, ampissima autonomia, di oltre 2500 km, quindi, ci dà un'idea del tempo che può stare in volo, l'F-15 può stare in volo tranquillamente, tre ore, con questa autonomia, vedete, queste sono, queste bombature, hanno, contengono più carburante, l'aeroplano può trasportare più carburante internamente, così vale anche per l'F-16, questo che si vede, è un serbatoio, sono F-16 block 72, che trasportano anche questi, ecco, questo qua, trasportano più carburante, più, normalmente l'F-16 parte sempre con due taniche, 3 barra 3 aggiuntive, perché internamente non è un aereo che può trasportare molto, ora, i decolli con tutti, tutte queste serbatoi, e tutto questo carburante, in più ci dà un'idea, appunto, dell'impressionante tempo di volo richiesto, per fare questa missione, quindi, andiamo con ordine, allora, la prima ondata, questo lo metto sempre le mani avanti, parere mio, deduzione, prendetela per quello che vale, ma, è anche, mi baso sulle dichiarazioni di Jerusalem Post, la prima ondata si è concentrata sulla soppressione delle difese aeree, per quella task di missione che viene comunemente chiamato SIAD, in origine era Wild Weasel, nei tempi del Vietnam, oggi ha avuto un po' più di evoluzione, tecnologica, e questo tipo di volo, lo sappiamo, si è concentrato per creare una sorta di corridoio, fra la Siria, l'Iraq e l'Iran, quindi, in poche parole, ha generato una sorta di corridoio, per poter operare sull'Iran, quindi, per fare questo, in genere, oddio, c'è un disegno che non posso, meglio evitare, quindi cancelliamo i pattern per adesso, delle aeree cisterne, quindi, allora, per fare questo in genere, non basta, non si parla solo di SIAD, ma, ovviamente, questi aerei, che dovranno lanciare, delle armi pensate per distruggere, gli scudi missilistici, e soprattutto, i radar di ricerca, perché, in realtà, la cosa che devi distruggere, non è tanto il sito di lancio, quanto il radar, che lo gestisce, perché, se tu distruggi, quell'antenna, l'antenna radar, di una postazione lungo raggio, tutti quei missili, che possono essere lanciati, diventano completamente inutili, non servono più a niente, quindi, ecco, quelli sono i bersagli primari, oltre a questo, devi distruggere anche, i radar di scoperta, i cosiddetti, EWR, che sta per Early Warning Radar, sono delle grosse antenne, che servono per creare, una consapevolezza, situazionale d'aria, quindi, la prima missione, la prima ondata, israeliana, scusate, anche ieri mi sono confuso, un paio di volte, fra Israele e Iran, la prima ondata israeliana, si è concentrata, sulla soppressione, dei radar di scoperta, e delle difese aeree, iraniane, oltre a questa missione, era ovviamente, presente, una cosiddetta, Bar Cup, che sta per, Barrage Air, Combat Air Patrol, cioè, una sorta di scorta, in stile tradizionale, cioè, degli aeroplani, che avevano, un ruolo di protezione, degli aerei, che avrebbero fatto, l'attacco al suolo, questo, giusto, a scanso di equivoci, non credo, che Israele, avesse, grandi preoccupazioni, circa l'aviazione iraniana, che abbiamo, l'abbiamo già detto nel video precedente, e ha oggi a disposizione, una quarantina di F-4 Phantom, una ventina di F-14, e qualche MiG-29, stiamo parlando di un'aviazione, che da un punto di vista, di guerra moderna, è, inesistente, inesistente, non può fare, assolutamente niente, però, ecco, sicuramente, possiamo dirlo, nelle, nelle corde, della prima ondata, c'era anche, una eventuale, protezione, dei pacchetti, che facevano un attacco al suolo, quindi, Barcap, e Siad, hanno, si sono mossi, letteralmente, insieme, anzi, meglio dire, la Barcap, in genere, precede, di un poco, la Siad, se non, nei pacchetti multiruolo, questa, questa possibilità, viene gestita, in maniera sinergica, ora, durante il primo attacco, la prima fase, si sono concentrati, appunto, sulle zone, di, di, di radar di scoperta, e difesa dello spazio aereo, iraniano, provo a rappresentarli, più o meno, erano in queste zone, nella zona di Teheran, c'era uno scudo missilistico, i raggi, che sto, che sto rappresentando, sono, abbastanza, abbastanza, veritieri, sulla zona di Teheran, di Ilan, e, Kuzestan, in quest'area qui, a sud, quindi, per fare questo, le, le capacità, tecnologiche, israeliane, sono avanzatissime, nel senso, utilizzando gli F-35, sappiamo, possiamo ipotizzarlo, che, questo aeroplano, è, più, è, è più un bombardiere, più un caccia bombardiere, che è un caccia intercettore, nasce, come, come un aereo, in grado di sopprimere, qualsiasi scudo missilistico, e difese aeree, in generale, per fare questo, l'aereo, non ha neanche bisogno di armi, per intenderci, perché ha, un dispositivo elettronico, che lancia, un impulso, che è in grado, di zittire, di ridurre, le capacità, di scoperta, dei radar, nemici, cioè, immaginiamolo, come un'arma laser, quasi, però, in realtà, lavora in frequenze, su, su microonde, comunque, è questo impulso, questo treno, di impulso, è in grado, di ridurre, moltissimo, già, da un punto di vista, di guerra elettronica, le capacità, offensive, almeno, le capacità, dei radar, di scoperta, nemici, a questo, poi, ci sono, i cosiddetti, jammer, che creano, una sorta, di confusione, cioè, non permettono, agli operatori, a terra, iraniani, non hanno permesso, agli operatori, a terra, iraniani, di capire, cosa stesse succedendo, e, questa, è, un po', detto in maniera, semplicistica, la guerra elettronica, generare, confusione, ridurre, le capacità, a questo, poi, è stata eseguita, una sorta, di saturazione, cioè, vengono lanciate, delle esche, gli aeroplani, israeliani, hanno potuto lanciare, dei TALD, delle, dei mini aeroplanini, vediamoli così, sono dei missili, un po' più tozzi, un po' più grossi, perché devono essere, un po' più grossi, per poter emulare, la sagoma di un aereo, e vengono lanciati, in avanti, questi, tutti questi oggetti, vengono acquisiti, dagli scudi missilistici, interpretati come aerei, e vanno, i sistemi, che tracciano i bersagli, devono analizzare, ogni singola traccia, per capire, qual è quella vera, qual è quella non vera, in base alla loro velocità, la quota, la decadenza, della traiettoria, e quindi, tutto questo occupa, il processo, di selezione, satura, il sistema, di difesa missilistica, a questo è stato eseguito, il vero attacco, SIAD, cioè, l'attacco, sui siti, di difesa, missilistici, iraniani, e i radar, di scoperta, quindi, sappiamo, per esempio, questo, almeno, l'ho letto, sempre su Jerusalem Post, ma anche su altri autori, che, il famoso sistema, missilistico israeliano, tanto decantato, dal professor Orsini, che avrebbe, impedito, qualsiasi raid, israeliano, ha intercettato, due missili, che gli sono stati lanciati contro, ma per il resto, sono stati distrutti, questi siti di lancio, DS-400, sono stati colpiti, c'è stato un enorme successo, nella prima ondata, di attacco, SIAD, il che, poi, ha permesso, ha permesso, alla seconda ondata, di sopprimere, ulteriormente, le capacità difensive, con strike, direttamente, allora, quindi, la prima fase, si è sviluppata, attorno al concetto, di SIAD, torniamo sulla mappa, ora, un attimo, che volevo prendere, anche, un'altra, un'altra mappa, ecco, quindi, ci arriviamo, allora, stavo dicendo, la prima ondata, si è concentrata, sulla SIAD, la seconda ondata, invece, si è concentrata, su, i siti di lancio, dei missili, balistici, e i personici, iraniani, ora, questa è stata, una vera e propria, vendetta, rispetto all'attacco, iraniano, condotto ai danni di Israele, nel senso, hanno colpito, la loro produzione, e il loro stoccaggio, dei missili, più importanti, che ha l'Iran, oggi, ora, qui mi collego, a alcuni commenti, un po' spiacevoli, che ho ricevuto, nei giorni scorsi, faccio una precisazione, allora, sinceramente, io mi occupo, di, aviazione, studi, in termini militari, per me, questi discorsi, sono interessanti, perché, appunto, è la mia materia, di studio, non venite qui, sul mio canale, a parlare, di Israele, Palestina, mettendo in mezzo, slogan, prese di posizioni, non mi interessa, questi discorsi, lasciateli, per strada, o in altri contesti, dove si fa, appunto, una retorica facile, non mi interessa, qui si sta parlando, di un raid aereo, da un punto di vista, di analisi storica, ok, questo è quello che posso fare, io e il mio contributo, è questo, se, quello che vi dico, può aiutarvi, anche a capire, com'è una situazione, sul campo, per darvi degli spunti, per fare le vostre ricerche, io sono contento, però, ecco, non venitemi a dire, l'Iran, è una superpotenza, che insegna, oggi, agli altri, come si fa, la guerra aerea, perché, da un punto di vista storico, questa affermazione, non ha senso, in questi mesi, anche, a partire dall'attacco, iraniano, ai danni di Israele, ne ho sentite, di tutti i colori, secondo cui, gli iraniani, oggi, posseggono, i missili, ipersonici, hanno, le armi migliori, del mondo, patapi, patapà, ne ho sentite, davvero, di tutti i colori, ora, è chiaro che, probabilmente, molte persone, non sanno, come stanno, realmente, le cose, perché si affidano, a fonti, poco puntuali, oppure, fonti televisive, è chiaro che, no? Tanti, in televisione, cercano di fare, dei discorsi, molto semplicistici, sulle armi, metto, intanto, in chiaro le cose, l'ipersonicità, è una grande, bufala, nel senso, se, in personicità, si intende, qualsiasi cosa, che va oltre, Mach 5, beh, allora, sappiate, che anche la Germania, nel 1943, aveva le sue armi, ipersoniche, ok? Cioè, sono dei concetti, datati, tutto quello, che supera, Mach 5, è considerato, ipersonico, se, invece, parliamo, di tecnologie, ipersoniche, si possono intendere, due oggetti, in particolare, allora, avevo preso, ecco, di cui l'Iran dispone, di un paio di queste tecnologie, almeno, sulla carta, cioè, si parla di oggetti, che possono, partire come un missile balistico, che già è ipersonico di suo, perché, qualsiasi, missile, che va, nello spazio, supera l'atmosfera, la zona bassa dell'atmosfera, per farlo, deve raggiungere, quelle velocità, quindi, cioè, anche il Saturn 5, che ci ha mandato, sulla Luna, era un missile, ipersonico, da questo punto di vista, anche le V2 tedesche, erano ipersoniche, anche la stazione spaziale, internazionale, è ipersonica, anzi, molto più, tipo, dieci volte, ipersonica, ora, quindi, un missile balistico, deve raggiungere, lo spazio, fa una traiettoria, balistica, per la curvatura terrestre, non è visibile, sui radar, cioè, può essere rilevato il lancio, solo a mezzo di satelliti, che hanno strumenti, radar o infrarossi, per vedere, la partenza, però, data la curvatura terrestre, un radar di ricerca, non può vederlo, se non quando è nello spazio, e inizia la sua traiettoria balistica, a quel punto, alcuni missili, nella dicitura, nella definizione, di missile ipersonico moderno, lo stadio, che ha propulso, il missile nello spazio, si separa, il primo stadio, e rilascia, l'ordigno vero e proprio, che può avere, delle ali, o può avere, degli cosiddetti, RCS, che sono, dei piccoli motorini, a getto, che gli permettono, di planare, nella fase terminale, e di fare, delle correzioni, alcune correzioni, più avanzate, gli permettono, di evitare, alcune zone, di maggiore difesa aerea, e così planare, verso il bersaglio, ora, la fisica, è abbastanza nota, nel senso, sappiamo tutti, che, l'aria, densa, rallenta, provate a mettere, un braccio, fuori, dal finestrino, della macchina, a 200 km, km orari, il vento, ve lo strappa via, il braccio, è lo stesso principio, quando un oggetto, arriva in bassa atmosfera, cioè, nel momento in cui, deve colpire il bersaglio, quell'oggetto, deve rallentare, e la fisica, ci dice, che anche, un oggetto, ipersonico, quando arriva, a bassa quota, rallenta, nell'ordine, mach 1, mach 2, una volta, due volte, la velocità del suono, e in quella fase, può essere intercettato, come tutti quanti, gli oggetti, che si intercettano, altra tipologia, sono i missili, i personici, che sfruttano, il cosiddetto, motore esotico, cioè, un motore, che può funzionare, solo oltre mach 5, perché, è un motore, che sfrutta, il plasma, che si genera, a quella velocità, si autoalimenta, quindi, non è un motore, in grado, di funzionare, al di sotto, di quella velocità, ora, questi oggetti, sono molto sperimentali, perché, è molto difficile, far funzionare, un oggetto del genere, sono in studio, anche oggi, in America, e c'è sempre, un discorso, di costi benefici, nel senso, non è detto, che sia necessariamente, la soluzione del futuro, per questo, in America, gli scienziati, che negli anni 60, hanno iniziato, a sviluppare, questi motori esotici, per questi oggetti, quindi, si parla, dei cosiddetti, zircon, russi, o oggetti americani, sviluppati, per questi principi, quelli che hanno, il cosiddetto, motore esotico, sono, molto difficili, da realizzare, per due motivi, il primo, è che, l'oggetto, per poter funzionare, ha bisogno di aria, ora, come ho detto prima, se l'oggetto, viaggia, in aria densa, non può, viaggiare, a Mach 5, è impossibile, cioè, neanche i meteoriti, che ci colpiscono, dallo spazio, arrivano, alla terra, colpiscono il terreno, quelli che riescono a passare, a quelle velocità, la loro velocità, si riduce, moltissimo, quindi, se non possono viaggiare, a Mach 5, a bassa quota, non sono, per niente, invisibili, ok, cioè, si possono vedere, via radar, oltre a questo, quando, per poter viaggiare, a quella velocità, devono essere, molto alti, in alta atmosfera, quindi, 30, 40 km, di quota, dove c'è ancora aria, per poter alimentare, questa, questo motore, però, a quel punto, comunque, diventano oggetti, comunque visibili, poi ci sono altri motivi, cioè, il cosiddetto, plasma, che si genera, attorno all'oggetto, per le temperature, che è riflettente, che ha, due, effetti, controproducenti, il primo, è che è riflettente, e quindi, è visibile, sia nello spettro, della luce infrarossa, che il radar, l'altro aspetto negativo, è che, questa pellicola, che si genera, attorno all'oggetto, che viaggia, a velocità, ipersoniche, impedisce la comunicazione, fra, l'esterno, e l'interno, di conseguenza, l'oggetto, può funzionare, solo basandosi, sulla propria, il proprio sistema, di navigazione, interno, inerziale, poi, chiaramente, ci sono altri, problemi, nel senso, a livello teorico, l'arma ipersonica, non avrebbe neanche, bisogno di esplosivo, perché basterebbe, la sua energia cinetica, come esplosivo, che è l'equivalente, di alcune, alcune centinaia, di chili, di TNT, però, appunto, sappiamo, che, l'oggetto, non può colpire, a velocità, ipersonica, il terreno, di conseguenza, non ha, poi, tutta questa capacità, esplosiva, in termini, cinetici, di conseguenza, a questo punto, a che serve, tanto vale, costruire, misti da crociera, e misti da crociera, un solo, è più efficace, è più stealth, può volare, basso, quindi, invisibile, per la stragrande, maggioranza, del tempo, e, comunica, con l'esterno, può fare, correzioni di rotta, insomma, ci sono, molti più vantaggi, nell'utilizzare, un normale, misti da crociera, piuttosto che, un'arma, così sperimentale, per questo, infatti, c'è una sorta di battuta, fra scienziati, americani, che è stata un po', poi ripresa, anche negli anni 90, quando questi studi, sono stati ripresi, per cui si dice, che, l'arma ipersonica, è l'arma del futuro, e lo sarà per sempre, cioè, nel senso che, non si arriverà mai, a quel futuro, ora, è chiaro che, tornando al discorso, per non divagare troppo, gli iraniani, oggi, hanno sviluppato, queste tecnologie, ma perché? Perché, esistono, queste, diciamo, conoscenze scientifiche, circolano, da 70 anni, dagli anni 60, ormai, quindi, si conoscono, e ci sono dei vantaggi, nel senso, il vantaggio, di lanciare un missile balistico, a propellente liquido, come quelli, iraniani, se li becco, eccoli qua, in questo schemino, e che, sfruttano, diciamo, una conoscenza, scientifica, di lancio, già nota, dagli anni 60, anche prima, voglio dire, con le V2 tedesche, il missile balistico, è semplice, da un punto di vista, progettuale, per mandare in orbita, un oggetto, non è che servono grandi, grandi tecnologie, basta anche un, un motore a propellente solido, se non liquido, voglio dire, a questo ci sono arrivati, gli iraniani, si stanno affacciando, all'era spaziale, un po' come, no? La Russia, e gli Stati Uniti, negli anni 50, cioè, questa tecnologia, poi, una volta, che il primo stadio, ha portato, l'oggetto in orbita, hanno sviluppato, questo, questo, questo ordigno, che rientra, e ha delle ali, per poter fare, delle correzioni, grazie al suo sistema, di guida inerziale, si può collegare, vedete qua, l'esplosione, che ha causato, grazie al suo sistema, di guida inerziale, può arrivare, con precisione, sul bersaglio, quindi, questi, questi sono gli oggetti, poi, si specula anche, sul Fatta 2, come oggetto, ipersonico, ripeto, si, finché, volano, alti, poi, ripeto, per problemi, dinamici, dell'aria, ci sono grossi limiti, nella manovrabilità, in bassa atmosfera, di questi oggetti, per cui, si pensa, che possono manovrare, un poco, ma non è che possono fare, cose fantascientifiche, cioè, hanno, la capacità, di fare, correzioni, all'ultimo momento, per arrivare, precisi, abbastanza precisi, sul bersaglio, quindi, gli israeliani, hanno colpito, questi siti di lancio, con, degli strike, di precisione, ora, dato che, gli israeliani, non sono, stupidi, da un punto di vista, operativo, e, in termini di, aviazione, sono andati ad applicare, delle conoscenze, che, sfruttano al meglio, le capacità, ipersoniche, delle armi, e questo, fra l'altro, mi collego, anche, per parlare, del cosiddetto, maaco, allora, gli israeliani, hanno sviluppato, la Rafael, è un'azienda israeliana, ha sviluppato, l'equivalente, di queste armi, però, che partono, da aerei, quindi, stiamo parlando, del cosiddetto, ROX, è un missile, chiamato anche, Sparrow, che praticamente, parte da un aereo, ed è un missile, balistico, ok, si intende come, missile balistico, cioè, è un oggetto, pensato, per colpire, infrastrutture, bunker, piste, siti di lancio, tutto quello, che può essere, anche sotterraneo, per penetrare, in profondità, allora, c'è anche, il test, di lancio, vedete, questo grosso, missile, ha un motore, a propellente solido, che lo spinge, a velocità, ipersoniche, vabbè, questo, ma, perché, perché fa una parabola, come tutti i missili balistici, ritorno a quello, che ho detto prima, e quindi, sì, cosa succede, interessante, adesso, ve ne parlo, questi sono stati usati, nel raid, di ieri, questi oggetti, qui, come vedete, ha un missile, è un missile tradizionale, balistico, con propellente solido, che lo fa accelerare tantissimo, poi, vedete, e sale, sale tantissimo, in, in, in alta atmosfera, se non, ai margini, dello spazio, quel è il vantaggio, e questo succede anche, con il cosiddetto, mago americano, che sta sviluppando, la, Locked Martin, adesso ve lo faccio vedere, questo qui, qual è il vantaggio, di questo missile, beh, combina, due fattori, utili, della ipersonicità, cioè, la riduzione, dei tempi, di reazione, cioè, un missile, quanto più veloce, meno tempo hanno, in difesa, per abbatterlo, per intercettarlo, questo è il principio, cioè, alla base, di tutti i discorsi, propagandistici, russi, e tutta la stampa, e tutte, le cose semplicistiche, che vengono dette, in televisione, il grande mito, dell'ipersonicità, è questo, alla fine, più è veloce, un oggetto, più, meno tempo hai, per intercettarlo, e questo è il discorso, non è che è più difficile, intercettarlo, hai meno tempo, per farlo, chiaro, questo è il principio, quindi, un oggetto, come lo sparro, israeliano, che abbiamo visto, usare, ieri, questo qui, e che è un missile, balistico, sale, in, in una parabola, come, in questo video, che vediamo, anche in questa immagine, e, e poi scende, colpendo il bersaglio, quindi, essendo, ipersonico, cioè, che viaggia, oltre Mach 5, irrilevante, in realtà, può essere 6, può essere 4, frega niente, ripeto, il valore Mach 5, è un valore, utile, solo quando si parla, di motori esotici, in questi casi, non ci sono motori esotici, stiamo parlando, di un missile tradizionale, con un motore, a propellente solido, nel caso dello Sparrow, ma anche, del mago, della Rocket Martin, cioè, partendo da un aereo, combina, la velocità, del missile, ipersonico, con l'effetto sorpresa, perché? Perché, se, la nazione, attaccata, non sa, della presenza, di questo oggetto, non sa, che l'aereo, che si sta avvicinando, al suo territorio, sta per lanciare, questo oggetto, quando questo oggetto parte, riduce ancora di più, i tempi di reazione, quindi, è molto difficile, intercettarlo, quindi, mette davvero in crisi, qualsiasi sistema, di difesa, ed è molto, molto efficace, ora, quindi, sappiamo, sulla base di quello, che ho letto, in vari articoli, che gli israeliani, nella seconda, ondata, ma anche poi, nella terza, hanno colpito, non solo, i siti di lancio, dei missili balistici, e i personici, iraniani, ma poi, nella terza ondata, sono andati anche, a colpire, obiettivi chiave, legati, alla produzione, di questi missili, alla logistica, di questi missili, nella zona, di Teheran, ok, quindi, compresi, i siti di lancio, proprio dei missili, i personici, Fatta, e Shahed 3, ok, quindi, ecco, penso, che sia stata, una risposta, super intelligente, da parte, di Israele, che ha, letteralmente, annichilito, la difesa, aerea, iraniana, colpire, questi sono, per esempio, i bunker, colpiti, nella terza, ondata, colpire, questi siti, significa, che, l'Iran, non è in grado, assolutamente, di impedire, raid, aerei, iraniani, e ha dimostrato, le grandi deficienze, della tecnologia, iraniana, nella difesa, nonostante, avesse, comunque, delle buone, postazioni, come S-300, S-400, alcune, fornite, dalla Russia, in tempi, non lontani, altre, sviluppate, per conto loro, però, ecco, parlandoci, chiaro, la, la forza aerea, israeliana, è quanto di più avanzato, esiste oggi, sul pianeta, non solo in termini tecnologici, ma anche in termini di pianificazione, organizzazione, e questo è tutto, nella guerra aerea, cioè, non basta solo la tecnologia, uno può anche uscirse domani, che si inventa la grande, la grande tecnologia innovativa, ma non funziona così, cioè, non è solo quello, la guerra è fatta da uomini, pianificazione, strategia, soprattutto, quando si parla di guerra aerea, una campagna, così, è chiaro che è un frutto di grande, grande esperienza, di persone, proprio dall'esperienza, di lungo corso, nell'aviazione israeliana, e il fatto che abbiano usato, oltre 100 aeroplani, che non abbiano subito perdite, perché non hanno subito perdite, è una cosa straordinaria, hanno utilizzato anche delle donne, voglio dire, e questo mi sembra davvero uno smacco, contro una nazione, che le donne, le lapida, letteralmente, quindi, voglio dire, tanta roba, da parte di Israele, hanno minimizzato le vittime, si parla di quattro vittime fra i militari, che erano presenti nei siti di lancio, quindi, io penso che sia stata davvero una risposta adeguata, e che adesso vedremo, cosa si svilupperà, è chiaro che già nella mattina di ieri, come facevo notare, che erano presente una marea, di velivoli, da logistica, e rifornimento in volo, su tutta l'area, è chiaro che, gli israeliani si aspettavano una sorta di risposta, probabilmente si erano preparati, a eventuali lanci, di altri missili balistici, però, ecco, questa è la situazione ad oggi, scusate se mi sono dilungato troppo, sugli aspetti della guerra, in Medio Oriente, allora, alcuni piccoli aggiornamenti, da parte ucraina, prima di concludere, i russi avanzano, a sud della zona di Pokrovsk, ormai sono entrati, nella zona di Silidove, qui, come vedete, sono ormai in città, e stanno, hanno anche ottenuto, questa direttiva, verso la strada, verso Visneve, il che potrebbe mettere davvero in crisi, tutta la città di Silidove, attualmente, lo stesso stanno facendo, anche nell'area, di Curacove, dove vedete, hanno, hanno ottenuto progressi, in quest'area, che è stata ferma, per un paio di mesi, qui, quindi, ecco, una cosa, di cui parlava, Davis Davidov, che è ucraino, tra l'altro, quindi, è in contatto, anche, con alcune fonti locali, a cui, io, bisogno, di avere, vedete, anche, nella zona di Vugledar, ci sono stati, grossi progressi, ecco, una cosa, di cui si lamentano, gli ufficiali, ucraini, e una mancanza, di fortificazioni, su tutta la linea, infatti, hanno paura, che Pokrovsk, possa cadere, perché non ci sono, abbastanza fortificazioni, non sono state costruite, fortificazioni, qui, se i russi, dovessero, occupare Pokrovsk, nel prossimo mese, cioè, prima dell'arrivo, del freddo, vero e proprio, la situazione, potrebbe essere, molto, critica, quindi, ecco, da parte, degli ufficiali ucraini, c'è, preoccupazione, perché, se, i russi, riescono a chiudere, Pokrovsk, in poche parole, possono consolidare, tutto, il Donbass, tutta la zona, scusate, del Donetsk, che, potrebbero, accaparrarsi, quest'area, e non è poco, da parte, quindi, degli ufficiali ucraini, c'è, un po', una denuncia, di impiegare, maggiormente, ingegneri, e costruzione, per fortificare, tutta quest'area, e fortificare, anche, le retrovie, dietro Pokrovsk, per impedire, che i russi, possano avanzare, facilmente, su quella, che, fondamentalmente, come vedete, è una strada dritta, questa qui, dopo Pokrovsk, questa è tutta, una strada dritta, facilmente, sfondabile, quindi, questa è la situazione, ovviamente, devo dirlo, perché, va sempre detto, i russi, stanno ottenendo progressi, in questi giorni, a un costo enorme, di mezzi, e uomini, continuo a ripeterlo, perché, ogni giorno, arrivano, dozzine di report, da tutte queste aree, prima di parlare, d'altro, allora, eccole, geolocalizzazioni, come vedete, il numero di report, delle geolocalizzazioni, è enorme, in questi giorni, tutti questi, sono mezzi distrutti, nella zona di Vugledar, come vedete, sono nelle retrovie, non sono neanche, tutte avanti, anche questo, carro armato distrutto, nelle retrovie, insomma, gli ucraini, infliggono, parecchie, parecchie perdite, alla Russia, per questi, per questi successi, però, al contempo, i russi, avanzano, la zona, di confronto, gli ucraini, fra l'altro, hanno pochissime, forse, a disposizione, e con quelle, cercano di contrastare, quindi, se vediamo, alcune zone, di contraattacco, ucraino, sono piccole, come questa, il 24, nella zona, di Pokrovsk, sappiamo, che anche, nella zona, di Toresk, c'è stato, un tentativo, da parte loro, di spingere, in quest'area, e qui, però, sono piccole, incursioni, non si parla, di avanzate, in massa, come quella, che fa la Russia, importandosene, nulla, della vita, dei propri uomini, altri, aggiornamenti, non ce ne sono, se non, nella zona, di, l'Ipsi, a nord, di Kharkiv, come vedete, tutte queste, geolocalizzazioni, ci mostrano, la tendenza, che vi avevo già, sottolineato, questa ieri, per esempio, questo, il 22, è il 22, il 24, sono tutte azioni, droniche, nelle retrovie, a nord, di Voycharsk, da parte ucraina, così, come si segnalano, altri, attacchi, nelle retrovie, c'è un tentativo, da parte ucraina, di penetrare, nell'area, di Belgorod, si vede, di più, nella mappa, in questa mappa, qui, ecco, come vedete, la zona a controllo ucraino, si è espansa, e ora, la zona contesa, è in pieno centro, di Zhuravkovka, non credo che si dica così, perdonate il mio ucraino, perdonatemi, mentre, se parliamo, per concludere, nella zona di Kursk, ecco, magari, sulla mappa di Mayakosk, si vede meglio, come vedete, la zona è ancora ben contesa, e anzi, il 26, ieri, gli ucraini, riprendono parte, del territorio, che erano stati costretti, ad abbandonare, quindi, questo è un segnale positivo, da parte loro, che, credo, che stiano cercando, di chiudere, le posizioni russe, in questa sacca, qui, madonna, come disegno male, quindi, questa è la situazione, da parte russa, devo riportare, quanto viene detto, dai blogger russi, si parla di midbloggers, che parlano, di perdita, di un Mi-28, Havok, parlano anche, di un Ka-52, però, questo non è confermato, mentre, sul Mi-28, pare, ci sia, più, certezza, ora, questo è un'elicottero, costosissimo, è un po', l'equivalente, dell'Apaci americano, è, ben fornito, di tecnologie moderne, come radar, di scoperta, e, questo è un radar, a 360 gradi, questo è un radar, d'attacco, questo è un sensore, elettroottico, ha un cannoncino, brandeggiabile, qui possiamo vedere, montati, i classici, Sturm, credo che siano, Atac, ne monta tanti, lancia, delle rastrelliere, per, per razzi, questi sono, KH-8, credo, e, all'estremità, delle semiali, come vedete, ha anche dei sensori, questi credo che siano, sensori, di rilevamento, di fumi, quindi può rilevare, in automatico, i lanci, di missili, spalleggiabili, e lanciare, in automatico, le contromisure, insomma, è un bel elicottero, da un punto di vista, come capacità d'attacco, è un vero elicottero, d'attacco, oltre a questo, poi vabbè, K-52, è un altro, è probabilmente, il miglior elicottero, d'attacco del mondo, e la perdita, di questi elicotteri, è insostituibile, per loro, cioè, sono mezzi, estremamente complessi, costosissimi, molto di più, di un aereo, cioè, un Su-34, penso che, per il costo di uno, di questi elicotteri, ricompri due, o tre, di Su-34, quindi, questo è, e niente, questo è quanto, cari amici, come sempre, fatemi sapere, nei commenti, cosa ne pensate, un abbraccio, alla prossima, e,